sabato inaugura la mostra i percorsi della pazzia qui all'ex ospedale psichiatrico di rovigo che mostra è è una mostra che spiega il lato peggiore purtroppo della psichiatria e del periodo manicomiale in italia è una mostra vietata ai minori di 18 in quanto contenente una quarantina di video originali e quindi crudi e soprattutto la lobotomia e anche l'elettroshock eccetera visti dal vivo fanno male abbiamo deciso di vietare ai bambini e comunque minorenni l'ingresso e sarà aperta al sabato dalle 10 alle scusami sabato dalle 14 alle 18 e domenica dalle 10 alle 18 consigliamo un po di tempo perché ci vuole un paio d'ora almeno per visitarla tutta e diciamo un po di pelo nello stomaco ecco tutta questa mostra è stata allestita all'interno di un padiglione particolare sì il padiglione dei sudici o la fossa di serpenti come veniva chiamata al tempo e la particolarità di questo padiglione è che è rimasto immacolato dal 1907 non ha subito ristrutturazioni e quant'altro quindi l'atmosfera che si respira camminando è proprio quella che avevano i malati dell'epoca ecco l'idea comunque dell'associazione luoghi dell'abbandono è quella di mantenere la mostra permanente la nostra proposta sarebbe per l'ASL in futuro di prenderci carico addirittura della ristrutturazione dell'intero edificio e di fare una mostra permanente quindi come moneta di scambio ristrutturare l'intero edificio e regalare alla città di Rovigo un museo permanente sulla psichiatria grazie mille grazie a voi